Musica Si conclude oggi la maratona, 500 km hai girato praticamente tutta buona parte della Basilicata per portare valori come lo sport, come le corrette abitudini alimentari, cosa rimane di questa esperienza Pietro? Sicuramente rimane qualcosa di veramente esclusivo e unico dal punto di vista sia sportivo che per il messaggio che volevo portare appunto nelle varie comunali della Basilicata. Il mio messaggio era che donare per questa associazione, una bella associazione Avis Basilicata e non solo, oppure a livello italiano, è un giusto pretesto per fare e dare qualcosa. Questo anche grazie allo sport che appunto ho sposato dal primo momento, che è la mia passione per il runner, per la corsa appunto. E' tutto qua, quindi questo diciamo che è il messaggio che ho voluto portare. Ascolta, l'accoglienza che hai ricevuto nei 23 comuni della Basilicata come è stata? E' abbastanza buona, se non da parte di alcune comunali come prima dicevo, ma purtroppo questo fa parte della cultura appunto di ognuno di noi, comprese alcune comunali della Basilicata. Non tutti mi hanno saputo, hanno captato e recepito il messaggio, però chi l'ha fatto l'ha saputo sostenere nei migliori dei modi e sono veramente felice che ci sono riusciti. Ascolta, prossimi appuntamenti, sentivamo la Stramarconia e qualcuno ha chiesto anche la tua partecipazione alla Maratona di New York. Sì, Stramarconia molto sicura, preparazione alla Maratona di New York anche non è una cosa impossibile perché si tratta appunto solo di 42 km. Il problema è arrivarci fino in là, quello è l'unico problema, però no, sono in previsione anche quel tipo di attività, nel senso alcune maratone importanti del mondo, spero di riuscirle a fare e a portarle a termine. Ok, grazie Pietro. Alla nostra sinistra Vincenzo Scarnato, responsabile della produzione dell'omonima azienda agricola. Avete deciso di sponsorizzare questa iniziativa, perché? Allora, essendo stato un ex sportivo agonista, abbiamo voluto associare la nostra frutta allo sport come carburante di vita genuino e salute. Quindi viva le buone abitudini alimentari in sostanza. Sì, e un certo tipo di educazione alimentare. Ok, da Marconia è tutto, grazie. Ok, grazie. Ok, grazie. Grazie. Grazie.